Continuiamo la nostra spiegazione sulle funzioni parlando di callbacks. Le callbacks sono nient'altro che un modo particolare di utilizzare le funzioni che abbiamo finito di vedere nella precedente lezione. Nel momento in cui abbiamo una callback, una callback è semplicemente una funzione che viene passata come argomento ad un'altra funzione la quale a sua volta si preoccuperà di invocarla per completare una qualche tipo di operazione che è appunto quella prevista dal codice della callback. Questo è possibile perché come sapete abbiamo detto che le funzioni sono elementi alla stregua di oggetti array in javascript e quindi possono essere utilizzate in tutti i posti dove di fatto andiamo ad utilizzare oggetti array e così via. Quindi possono essere passati come parametro ad altre funzioni, possono essere ritornate come valore di ritorno, possono essere assegnate delle variabili. Abbiamo due tipi di callback, ci sono le callback sincrone e asincrone. Che cosa significa? Dipende dal momento in cui la funzione alla quale passiamo la callback eseguirà la callback stessa. Se la callback è eseguita nello svolgere le operazioni della funzione stessa che riceve la callback, questa la definiamo callback sincrona. Ossia sappiamo nella logica del flusso di esecuzione del programma quando la callback verrà eseguita. Le callback asincroni invece verranno eseguite in un momento tipicamente successivo al momento in cui viene eseguito il codice della funzione alla quale abbiamo passato la callback. Vediamo l'esempio semplice sulla destra. Abbiamo una funzione process user input che prende una callback come parametro, qui abbiamo semplicemente chiamato per chiarezza il parametro callback ma può avere qualsiasi nome chiaramente. Questo parametro è un riferimento a una funzione e quindi può essere utilizzato per invocare una funzione che evidentemente prende come parametro un qualcosa che gli passiamo e poi lo processerà in qualche maniera. Come viene utilizzata? Noi chiamiamo la funzione process user input e gli passiamo il nome di una funzione. Il nome che può essere il nome direttamente di una funzione definita nello scope piuttosto che una variabile che contiene riferimento a una funzione. In questo caso abbiamo una funzione definita qui che prende un unico parametro name e ne farà alert hello più name quindi di una stringa e questo all'interno di un browser fa comparire una finestra a video che l'utente deve cliccare per mandare via. Quindi nel momento in cui eseguiamo process user input viene chiamata la funzione con una callback, la callback recupererà a video di nuovo con un'altra finestra all'interno di un browser un nome scritto dall'utente, richiamerà la callback con il parametro pari a nome e questa callback farà comparire una seconda finestra con scritto hello nome. Quindi questo meccanismo di esecuzione è sincrono e diciamo relativamente facile da comprendere perché sostanzialmente è quello cui siamo abituati a pensare quando ragioniamo in termini di flusso di esecuzione di un programma sequenziale e da un'istruzione alla successiva e così via, semplicemente richiamare una funzione passata come parametro. Il discorso è un po' diverso per le callback asincrone, che vedremo però dopo. Prima ancora un paio di esempi su callback asincrone, sono utili in particolare per realizzare il cosiddetto functional program di cui però parleremo nelle lezioni successive. Guardiamo questo semplice esempio che contiene un vettore di numeri, quindi dei numeri nella forma di un array javascript. Tutti gli array javascript hanno un metodo sort e il metodo sort prende come parametro una funzione, una funzione che passati due elementi ci deve dire come questi stanno messi nell'ordinamento che vogliamo ottenere. Quindi, per esempio, se noi usiamo una funzione che presi due elementi generici, a e b, ci ritorna la differenza tra a e b, sappiamo che l'elemento a finirà prima dell'elemento b, o viceversa, a seconda di come è stata definita la sort, ma comunque abbiamo un criterio per decidere qual è l'ordinamento relativo di a e b. Chiaramente cosa fa la funzione callback che passiamo ad un'altra dipende da come l'altra va a utilizzare la callback. Quindi, nel caso della sort bisogna andare a vedere le specifiche della callback che si aspetta di ricevere. Quindi, nel caso della sort, per esempio, ci si aspetta di ricevere una funzione che ritorna un valore maggiore di 0, uguale a 0 o minore di 0 a seconda dell'ordinamento della posizione relativa dei due elementi che vengono passati come parametro. Quindi, se sono nella stessa posizione 0 e via via, in altri casi, se deve venire prima o dopo. Il codice a sinistra e a destra è equivalente. Il codice a destra è semplicemente scritto callarrow function, così da farvi vedere la semplicità con la quale si riesce a scrivere una funzione relativamente semplice come questa, eliminando la keyword function e la keyword return e, di fatto, rendendo il codice anche più leggibile. Quindi, nella funzionalità esattamente equivalente, c'è una funzione che prende due parametri e due valori del vettore a seconda di come funziona la sort, che può essere un qualsiasi tipo di algoritmo, quick sort, merge sort, qualsiasi tipo di sort. Questa funzione è la funzione che viene usata per confrontare i due elementi a, b, dati i due elementi a, b, semplicemente ritorna questo valore a meno b, essendo un singolo valore, viene automaticamente ritornato dalla arrow function. Un altro esempio è quello di filtrare secondo un criterio, un array. L'array ha tanti metodi che vedremo più avanti, che si prestano a questo tipo di programmazione funzionale. Guardiamo un esempio relativamente semplice con il metodo filter, che crea un nuovo array con tutti gli elementi per i quali la callback ritorna vero. In questo caso abbiamo un esempio un po' più complesso, cioè abbiamo un array di elementi che sono degli oggetti, che quindi hanno un nome, hanno una proprietà che si chiama nome, che quindi ha un certo valore, e un'altra proprietà che si chiama var, una variazione, che è un valore numerico. Possiamo filtrare gli elementi dell'array market tramite l'utilizzo di questa callback, che dobbiamo fare in modo che ritorni vero nel momento in cui incontriamo un elemento dell'array per il quale vogliamo includerlo. Quindi stock di volta in volta diventerà l'oggetto numero in posizione 0, posizione 1 e posizione 2. Posizione 0, facciamo il primo esempio, prendiamo l'oggetto, facciamo accesso alla proprietà var dell'oggetto, che varrà quindi meno 3,2, sarà minore di 0 e quindi la condizione sarà vera e l'oggetto viene incluso. Per il secondo caso non è così e così via. Quindi la prima riga ci ritornerà tutti gli elementi che hanno var minore di 0. come nell'esempio, e la seconda, avendo invertito la condizione e quindi di fatto avendo passato una callback differente, ci ritorna un array diverso che è l'array che contiene tutti gli elementi che hanno var maggiore di 0. Dicevamo prima delle callback asincrone. Queste sono molto presenti in javascript, dovremmo imparare ad utilizzarle bene. Non sono così intuitive perché tutte le volte che inseriamo dell'asincronicità nel nostro codice dobbiamo sempre pensare che cosa succede nel tempo quando queste funzioni vengono eseguite. Ricordate che in javascript le funzioni tra l'altro possono portarsi dietro dei reference a degli elementi che sono definiti nel momento in cui le funzioni sono definite, quindi le callbacks sono definite. Quelle closure di cui parlavamo prima. Parlando di callbacks asincrone, i casi più frequenti che prevedono il loro utilizzo sono la gestione dell'input da parte dell'utente, quando per esempio siamo in un browser tutto l'input dall'utente è asincrono, per esempio click, spostamenti e cose di questo tipo viene gestito con delle callback, ossia per certi eventi che si possono verificare registriamo delle callback, ossia passiamo delle funzioni a degli elementi che sono in grado di invocarci tali funzioni quando si verifica l'evento stesso. Un altro caso frequente è quello delle operazioni di input output, ossia operazioni che impiegano parecchio tempo ad essere eseguite. Nel momento in cui, che so, dobbiamo leggere un file da disco, se siamo sul lato del server, piuttosto che dobbiamo caricare una risorsa dalla rete e così via, sono operazioni che ci mettono del tempo e quindi non vogliamo rimanere bloccati in attesa di svolgere questa operazione e quindi diciamo alla funzione che svolge questa operazione di richiamarci e in particolare richiamare una callback nel momento in cui termina l'operazione. Tra l'altro l'operazione non è detto che abbia successo, quindi la callback deve poter gestire eventualmente anche degli stati di errore ed impareremo a fare queste operazioni. Per il momento, soprattutto in vista del laboratorio, ci concentriamo su un caso semplice, ossia le più semplici callback asyncroni che possiamo incontrare in JavaScript, che sono quelle dei timer. Quindi, di fatto, vogliamo farci invocare una funzione scritta nel nostro codice dopo un certo periodo di tempo oppure periodicamente. Esistono, tramite l'ambiente esecuzione JavaScript, due funzioni, metodi a disposizione del programmatore, setTimeout e setInterval. Il primo prende una callback che viene richiamata dopo un certo periodo di tempo passato come secondo parametro e il secondo invece periodicamente richiama la callback fino a quando noi gli diciamo di smettere. Vediamo l'esempio sulla sinistra. Abbiamo una setTimeout di una callback scritta sotto forma di arrow function in cui ci sono zero parametri, nessun parametro come parametro della funzione e del codice che viene eseguito console.log.hey, quindi stampa sulla console.hey dopo un certo periodo di tempo. Questo è espresso in millisecondi e quindi lavora, la callback verrà richiamata dopo un secondo. Quindi eseguendo questo codice definiamo questa variabile che contiene il risultato di setTimeout che prende una callback e quindi non fa niente dal punto di vista della console perché regista semplicemente la callback, poi viene stampato a video hi e poi se attendiamo un secondo verrà stampato a video hi, quindi quello che decide di fare la callback. La callback può anche prendere dei parametri come un esempio a destra e quindi possiamo passare come callback una funzione che prende dei parametri e questi dovranno essere passati come parametri successivi alla setTimeout in maniera che questa li passi alla nostra callback nel momento in cui sarà richiamata, in questo caso dopo due secondi. Per quanto riguarda la setInterval, il meccanismo è simile, qui abbiamo una funzione, una callback che semplicemente non fa nulla perché non c'è scritto nulla all'interno del blocco di codice che deve essere eseguito, che viene richiamata periodicamente ogni due secondi. Per annullare questa chiamata periodica è necessario salvarsi il valore di ritorno della setInterval quando impostiamo questo timer che è un handle, qualche cosa che ci consente di riferirci a tale timer e ci consente in particolare di chiamare la clearInterval che smette di richiamare la callback. Mi raccomando di fare attenzione al fatto che qui ogni due secondi viene richiamata la callback, indipendentemente dal tempo che la callback impiega per essere eseguita. Se ci si mette più di due secondi ad eseguire la callback, la seconda callback, quindi la funzione passata come parametro, verrà comunque eseguita prima che l'altra sia terminata. Quindi se dobbiamo assicurarci che la callback precedente abbia terminato l'esecuzione prima di eseguire la successiva, è probabilmente meglio inserire una chiamata setTimeout al termine della callback stessa e usando il meccanismo del setTimeout e non del setInterval, che chiaramente farà sì che la chiamata alla callback non sia più regolare nel tempo come invece fa la setInterval, ma almeno ci assicura che la precedente callback sia terminata. Veniamo ora ad un argomento che ci serve per il prossimo laboratorio che è la gestione delle date in JavaScript. L'importante è sapere qualcosa delle date perché in quasi tutti i programmi che andrete a scrivere in JavaScript probabilmente avrete bisogno di gestire date, ore e così via, per esempio la realizzazione di un semplice calendario da utilizzare via web e così via. Quindi tanto vale conoscere qualcosa riguardo a quello che l'ambiente ci fornisce in termini di funzionalità già predisposte e poi diremo anche come eventualmente utilizzare strumenti un po' migliori rispetto a quanto fornito dall'ambiente. L'ambiente ci mette a disposizione un oggetto date che immagazzina un istante di tempo con una precisione del millisecondo che viene calcolato a partire dalla cosiddetta Unix Epoch che è il primo gennaio 1970 mezzanotte in UTC, che è il fuso orario di Greenwich, Londra, che è diverso da quello dell'Italia. Quindi la prima cosa che dobbiamo notare è che quando dobbiamo gestire le date c'è sempre da fare molta attenzione alla questione dei fusi orari, le time zone. Quindi se noi inseriamo primo gennaio 1970 per quanto riguarda l'Italia, in realtà UTC mancava ancora un'ora alla mezzanotte. e quindi dobbiamo sempre fare attenzione a leggere bene il manuale e capire che cosa l'oggetto date si aspetta o deve invece ci fornisce. Prima di tutto se chiamiamo il metodo date senza parametri in questa maniera semplicemente ci viene ritornata una stringa che è l'istante di tempo corrente e così come è disponibile dal sistema, quindi dal clock interno del sistema. Se invece vogliamo creare un oggetto di tipo date quindi questa a sinistra, New Year Morning, è un riferimento ad un oggetto di tipo date che poi possiamo manipolare con una serie di metodi, questo oggetto prende nel suo costruttore una serie di parametri che sono l'anno, il mese, il giorno, ora, minuti, secondi, millisecondi alcuni di questi saranno opzionali come vedremo, dobbiamo sempre fare riferimento al manuale e fare attenzione perché per esempio il mese è contato a partire da zero, quindi zero è gennaio e così via. Questo costruttore prende un tempo nel local time, quindi il fuso orario nel quale è impostato il computer correntemente, quindi dobbiamo fare attenzione sempre a questi aspetti. Come facciamo a creare nuove date? C'è il new date, come abbiamo intravisto, questo crea un oggetto, non viene richiamato il metodo date, ma crea un oggetto senza parametri l'istante corrente, rappresenta l'istante e possiamo passare tutta una serie di parametri in formati anche differenti, se passiamo un numero, è il numero di millisecondi, quindi un miliardo eccetera per mille è circa il numero di millisecondi di una data più o meno odierna. Questo è l'unix time espresso il numero di secondi a partire da questo momento. Può essere passata anche una stringa che viene parsificata per andare a determinare qual è il corrispondente numero di millisecondi dal gennaio 1970. Bisogna però sempre fare attenzione perché anche in questo caso, nel caso delle stringhe, ci sono delle convenzioni che differiscono a seconda del tipo di fuso orario paese e così via. Per esempio se è eseguito questo codice su un calcolatore che utilizza una rappresentazione della data differente e quindi per esempio non utilizza i caratteri latini per esempio potreste avere dei problemi e così via. Quindi bisogna sempre fare delle verifiche approfondite su che cosa vogliamo fare, verificare cosa dice la pagina di manuale e fare attenzione che ci siano dipendenze controllate dal fuso orario e dall'insettaggio della lingua che abbiamo impostato. Quindi come visto possiamo già prendere anche un certo insieme di parametri che devono essere almeno tre, anno, mese, giorno, possono essere di più per impostare il valore con più precisione nel local time. Attenzione a ricordarsi la keyword new perché altrimenti semplicemente invochiamo date che è una funzione e che quindi ci ritorna la stringa. Attenzione a non confondersi tra local time zone e utc e questo bisogna assolutamente consultare il manuale, secondo di come passate le stringhe può essere interpretata come utc, z qui nel formato iso sta per data utc, data e ora utc e se invece l'ha passata in questa maniera verrà interpretata per esempio in Italia come un orario con locale, se andiamo a vedere cosa viene effettivamente rappresentato al suo interno andiamo a vedere che c'è l'orario che è indietro di un'ora perché abbiamo preso 18 marzo re 0 Italia che corrisponde a utc 17 quindi addirittura abbiamo cambiato di giorno. Bisogna sempre fare molta attenzione in questi aspetti e la formattazione ovviamente è dipendente dal local che vuol dire sostanzialmente dalla lingua che utilizziamo sia in fase di parsing sia in fase di produzione quindi di stampa di una stringa che corrisponde allora immagazzinata. Quindi è possibile parsificare le stringhe per trasformarle in date, vi consiglio di utilizzare un formato più standard possibile se possibile per avere meno problemi, è possibile andare a editare i campi all'interno dell'oggetto data per esempio che so per riportarci al primo giorno del mese, piuttosto che conoscere il giorno della settimana, di nuovo anche qui la convenzione da conoscere è riportata nel manuale, piuttosto che andare a recuperare il numero di millisecondi dal primo gennaio del settanta come vedremo tra un istante quando abbiamo bisogno per esempio di fare dei confronti. quindi ci sono molti metodi di questo oggetto ma bisogna fare assoluta attenzione a come questi vengono poi utilizzati. Confrontare le date di fatto è un'operazione che sostanzialmente vuol dire confrontare il numero di millisecondi da quella data Unix Epoch e quindi quando andiamo a confrontare due date per sapere se sono uguali sostanzialmente la cosa più semplice da fare è confrontare il numero di millisecondi e quindi farsi dare dal getTime tale valore. Facciamo però attenzione che se noi confrontiamo date in cui l'ora impostate dot cui non lo è non saranno uguali perché stiamo confrontando questo numero di millisecondi e quindi al bisogno dobbiamo andare a settare ore, minuti, secondi, millisecondi a zero per resettare il tempo e quindi essere sicuri di quello che stiamo facendo. Per fare differenze di dati quindi per esempio conoscere quanti giorni, mesi, eccetera sono passati da un certo istante di tempo possiamo convertire il tutto in appunto in millisecondi e poi andare a fare delle operazioni, qui sembra banale nel senso che diciamo appunto quanti millisecondi ci sono in un giorno, beh ovvio mille per 60 secondi, 60 minuti, 24 ore e quindi andiamo a dividere e fare tutti i nostri calcoli e determiniamo qual è il numero di giorni, ore, minuti, eccetera. Però fate attenzione che il calendario reale è un po' diverso dal calendario che ci hanno raccontato alle scuole elementari, nel senso che ogni tanto ci sono i cosiddetti lip seconds, cioè i secondi in più aggiunti in un minuto per consentirci di allineare gli orologi al tempo diciamo che di riferimento utilizzato internazionalmente piuttosto che banalmente le questioni relative all'ora solare e ora legale e quindi che spostano il calcolo non di secondi ma di ore e quindi purtroppo l'oggetto date standard di javascript non ci offre delle funzionalità particolarmente adeguate ma se avete necessità di fare operazioni che richiedono attenzione vi consigliamo di abbandonare questo oggetto e di andare ad utilizzare delle librerie esterne che siano un po' più serie e che quindi siano state scritte con più attenzione per esempio per quanto riguarda la gestione del locale, dei fusi orari e di tutte queste problematiche tecniche che come i lip seconds e così via che diciamo ogni tanto vengono fuori. Queste sono due possibili indicazioni, date, fns piuttosto che moment.js o la sua versione evoluta che trovate sulla stessa pagina. Quindi mi raccomando se state scrivendo del codice serio non semplicemente un esempio tanto per fare due prove usate sempre una libreria per gestire la questione delle date, tempi. In queste librerie spesso si riesce a gestire la data indipendentemente dalla questione tempo senza doversi portare dietro per forza distante di tempo esatto ma semplicemente pensando al giorno e così via. Quindi ci sono tutta una serie di facilitazioni e vale la pena diciamo poi andare a verificare qual è l'approccio migliore nel momento in cui state cercando di scrivere il codice robusto in questo senso. Mai gestire le date a mano perché perdiamo solo tempo e quasi certamente sbagliamo qualcosa. Quindi meglio affidarsi a delle librerie affidabili e vedremo poi più avanti come importare queste librerie nell'ambiente javascript così come tante altre per il momento diciamo che per il laboratorio possiamo affidarci alla soluzione di utilizzare l'oggetto date che abbiamo visto finora. Quindi con questa lezione concludiamo qui e quindi avete tutti gli elementi necessari per svolgere il laboratorio e continueremo poi a parlare degli aspetti più evolute di javascript nelle prossime lezioni. Per ora vi saluto e vi ringrazio l'attenzione e alla prossima lezione.